questa è la nuova applicazione per ipad per la horizon memory craft 15000 potete caricare un'immagine e decidere dove posizionarla sullo schermo grazie alla toolbar infatti come vedete lo schermo è diviso in quattro quadranti dove poter posizionare l'immagine proviamo a posizionarla nel centro dello schermo aiutandoci con la tool bar in basso selezionando l'opzione per posizionare al centro il disegno proviamo ora a spostare l'immagine nel riquadro superiore sinistro e proviamo a ruotarla grazie al tasto rotazione della tool bar potrete così ruotare l'immagine di 360 gradi potete poi decidere di portare l'immagine su quattro angoli dello schermo grazie al tasto angolo potete aprire la tastiera e scegliere le lettere che volete selezionando il carattere e la grandezza che preferite proviamo ad esempio a selezionare la g maiuscola e a trasferirla sul nostro disegno automaticamente il carattere sarà nero ma selezionandolo possiamo decidere il colore che più ci piace e che meglio si adatta al nostro disegno non è fantastico non è fantastico grazie a tutti grazie a tutti